Cosa accomuna la pratica sportiva e le prestazioni artistiche? Lo sport si può considerare una sorta di arte? La risposta è positiva. Entrambe sono espressioni delle più incredibili capacità dell'animo umano. Soprattutto lo sport, se svolto ai massimi livelli, è una sorta di capolavoro artistico in grado di suscitare forti emozioni in tutti coloro che lo seguono. Ed emozioni se ne sono vissute tante al Gran Galà lunedì scorso al Palace Allende di Fano, con l'arte premia lo sport. Fa riferimento a due elementi che è il cardine di un paese civile, cioè la crescita sportiva, le arti, le varie arti, ma la cultura in genere. Giunto alla sua seconda edizione, l'evento ha messo al centro l'aspetto valoriale della disciplina e del talento, di giovani atleti e rispettive società che in quest'anno si sono distinti nelle loro relative discipline, sia in ambito nazionale che internazionale. Ci dobbiamo affidare appunto a iniziative come queste, che hanno il carattere non pubblico, e questo credo che debba far riflettere un po' noi tutti, soprattutto chi gestisce le cose. Anche questa iniziativa è di tipo privato, cioè è un'organizzazione che per le sue passioni, cioè che poi sono le stesse passioni, che mi hanno permesso di elaborare queste idee, questo concetto di unire questi due elementi. L'ideatore dell'evento, Lello Natella, pone l'attenzione alla funzionalità della manifestazione, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni, lanciando un messaggio. Siamo in uno stato molto periferico su queste robe qua, e quindi è mortificante per il paese tutto. C'è che un paese civile progredisce se dà attenzione agli elementi che è la cultura, lo sport, per ovvi motivi, e soprattutto la scuola. Se si lascia in mano al privato di fare questa roba qui, credo che già di per sé non si dà attenzione a chi? A le risorse migliori che sono i giovani di un paese. Questo secondo gran galà ha introdotto maggiormente degli elementi valoriali, perché io ho inteso premiare prima che l'atleta che ha il suo talento, ha le capacità tecniche, ha la voglia, ha tutta la disciplina soprattutto, ma ha le società che supportano questo mondo, che però non ha scena. Non ha scena e non ha scena proprio laddove, come dicevo prima, nelle istituzioni. E quindi ci si affida al volontariato. Un paese civile si può sempre affidare solo al volontariato dove poi ci mettono con la passione, ci mettono le risorse, il proprio tempo. Credo che sia un circuito non propriamente costruttivo in questi termini qua.